Dov'è finita? Lo sa che devo assolutamente vederla. E adesso che facciamo? Dai, andiamo. Dai, seguiamo. Eh sì, un momento. Seguiamo. Ti prego, portami a casa. Ero pronto a scommettere che in quel momento Fiorella stava piangendo come una fontana. Lo sapevo per esperienza che cosa voleva dire. Ce l'ho passata tante volte. Ma che razza di gente erano questi bellocchi? Giovanna tradiva Enzo, Enzo tradiva Giovanna, Rudy tradiva Fiorella. E Tosca. Tosca era della stessa razza, non avrebbe certo smentito le tradizioni di famiglia. Fosi stato...